Ok Pronta? Vai Ok Eccola Ok Ok Wow Buon giorno a tutti Oggi siamo in compagna di Sonia Ciao a tutti È una persona da tenere Vi lascio il link in descrizione Così la seguite e la contattate È un check-up generale La mia paziente da un bel po' di tempo E faremo un check-up posturale E vediamo che c'è da liberare come disfunzione E puliamo tutto Girati verso la finestra Ti senti bene in questi giorni? Sì Hai qualcosa a segnalarmi? O faccio io un check-up? Un leggero pastiglio schiena Verticale? Un po' scapolare destro Ok Orizzontale, verticale o è un punto fisso? Ma è più un punto fisso Ok, dimmi il punto Ok Adesso allora Vediamo se è meccanico o se è muscolare Ti stai allenando? Sì Quanti giorni a settimana? Quattro giorni Vai giù a toccarti la punta dei piedi Torna su Ok Qua è male? Un fastidio Qui è male? Un proprio fastidio Ok Mettiti seduta Al centro del lettino Stessi punti Dimmi se è uguale Il fastidio o cambia Qua è aumentato È aumentato Qui Uguale Uguale Gira sinistra al collo Dimmi cosa vedi di me Gira, gira sinistra Ok Aspetta che ti sposto i capelli Mano, gomito e spalla Ok vai a destra Dimmi cosa vedi di me Mano, gomito Mano, gomito e spalla Mano, gomito e spalla Viso Mano, gomito e spalla Ok Vieni a pancia in su Vieni a pancia in su Stai facendo stretching Stai facendo stretching Si vede Non so se contratture o In generale un po' di Di tensione Dopo vediamo Dopo il trattamento Se è un po' qui libera Inspira Fuori Ancora Dolore Non fastidio Dolore Più di là Si Fu fastidio Ok Qua è male Pochino Qua è male Non più fastidio Che ha male Qua è male Un pochino Qua è male Un po' si Ok Chiega le gambe Sul bacino Giù Su Giù Lasciamo male Le gambe Hai dolore qui Un fastidio Alza la spalla Qua Destra Fai così Diminuisce aumento uguale Uguale Giù Alza il braccio Su 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 Stop Diminuisce aumento uguale Un po' di più Ok Giù Dammi il braccio Ok Giù 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 Diminuisce aumento uguale Diminuisce aumento uguale Diminuisce aumento uguale Diminuisce aumento uguale Ok Dolore Più da questa parte Più a destra Ma a sinistra A sinistra Non fastidio Va bene C'è che cominciamo a liberarti un po' Vieni un po' più vicino a me E vai tutta più su Ok Vai 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 Stop Braccio braccio Spalla spalla Fuori Dentro bene Fuori Ok Gira sul fianco sinistro Sì Gira la testa di qua Ispira Fuori Fianco destro Stavolta la testa Lasci così Giù bella morbida Fuori l'aria Bravo Sempre bella morbida Sempre bella morbida Sì Morbida 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 Morbidissima Ah beh dai Aspetta brava Aspetta assolito Inaspira Fuori l'aria Dentro bene Dentro 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 Brava fuori Dentro Ok Ancora dentro Fuori Dentro Fuori Dentro Ok Seduta Gambe di là Appoggiati a me Morbida morbida Lasciamo le molle molle Male qui? No Male qui? No Ok Il punto di prima È meglio? È peggio? Meglio Meglio Tutto sommato Comunque non c'erano grosse cose Direi di aggiungere Solo un po' di stretching Negli allenamenti Poi basta Direi che la parola chiave La scriverò già nei commenti È palestra Un bel respirone Di nuovo Ok Ok Gira Di verso la finestra Hai qualcosa a segnalarmi? C'è qualcosa che vuoi dirmi? Qualche dolore particolare? Come sempre un po' Alza una cosa verticale Ok Non scende? Un po' La faccia non ce l'hai C'è sempre verticale Anche sotto Ok Ma di testa Nausa non hai lì? Un po' di testa Da quanto? Ieri è portato il giorno al computer Mi studia di va Ok Ma se ti porto indietro? Sì Mi fa malissimo qua davanti Ok Quando ti porto indietro Di dietro dove ti fa male? Qui Ok Ok Allora piega il colo in avanti Vegge toccarti la punta dei piedi Torna su Torna su Mettiti seduta Piega il colo in avanti E piegati in avanti Torna su Giù Su Male così? Sì Male così? Male così? Sì Ok Male qui? Lontano Male qui? Di più Ok Sì Anche qua Ok Viene pancia in giù Testa nel buco Braccia dietro Dolore? Sì Dolore? Poco Quindi più questo Sì Dolore? Sì Più questo? Più questo Ok Se comprimo questo punto Questo è uguale Di più o di meno? Di meno Cioè di più rispetto a quello di prima Ok quindi meglio con questo qui Sì Se comprimo questo punto? Meno Questo punto? Meno Ok Qui è dolore? Poco Qui? Di più Qui? No Sì Qui tanto Questo scende uguale? No Fa male Non uguale Se comprimo qui Questo scende uguale? Scende Se comprimo qui Questo scende uguale? Scende Ok Vediamo anche di qua Male qui? No Qui? Poco Qui? No Ok quindi peggio comunque sinistra Sì Devo riprendere a ottobre Però questo periodo no Ok 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 Mora via mua via Grazie a tutti. Grazie a tutti. Te l'ho detto. Allora, metti da mangi in su. Tu hai male? Un po'. Qui? Sì, un po'. Qui? Sì. Qui? Meno. Qui è molto rigido oggi. Hai camminato, hai fatto qualcosa, hai fatto due camminate importanti, no? Importante non l'ha fatto con camminare un ladino. Niente di... Esatto. Le due sette camminate lunghe. Esatto. Meno, benissimo. Lasciamo andare alla damba. Gira sul fianco, presso di me. Pieda bene. Lascia cadere la gamba. Benissimo. Inaspira. Fuori l'aria. Ok. E ora. Vai sul fianco di qui. Abbraccio qui. Andiamo così. Inaspira. Fuori. Pancini su. Andrò, piega le gambe. Alza il bacino. Brava. Giù. Su. Giù. Ok. Qua ti fa male. Sì. Si, stra-tesa. Allora, vieni un po' qua. Abbraccio. Inaspira. Fuori l'aria. Inaspira. Fuori l'aria. Ho fatto un bel moraccio. Sì. Se ti allungo così, ti sollevo o non sento nessun beneficio? Mmm, differente. Se ti accorcio... Mi davo fastidio. Ok. Eccoli, mi fa male. Quanto ti ha fastidio? Ma anche qui. Qua anche. Qui? Sì. Peggio. Qui? Meno, però, mi fa fastidioso. Quindi questo è il peggiore? Sì. Ok. Così diminuisce o rimane uguale? No, fa male. Ok. Così diminuisce o rimane uguale? Minuisce. Questa è super morbida, eh? Mano in linea, brava. Non lo dobbiamo vedere. È croccante la fine. È una bella... Ah, sì. Incasinata. Abbiamo azzeccato il giorno. Fammi due bel sfironi a bocca aperta. Medi profondi, brava, fuori. L'ultimo. Fuori. Ok. 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 c'è una cosa che non ti fa male oggi ti puoi divertire esatto dimmi quando smacco di girare sta diminuendo ok dimmi quando non giro più ok gambe di qui sedere vicino a me braccia incrociate testa di qua appoggiate me inaspira cuore larga ok torno seguito come è stato sponciato oggi? non lo so questa è la ripresa del lavoro potrebbe essere è stato sponciato oggi è stato sponciato un bel respirone fuori un bel respirone braccio morbido morbido ok ok sono il mio diare adesso piega il collo avanti torna indietro guarda in su brava giù ancora vai e giù anche di qua vai torna su giù su giù e su allora fastidio sì fastidio mhm dietro bene allora giro il collo a sinistra giro il collo a destra torna al centro il cervicale oggi chiede pietà ecco infatti per chi è arrivato fino a qui scrive avrò i miei commenti cervicale che è appropriata se ti inclino di qui è meno dolore uguale e se ti tengo fermo qua e inclino e peggio sì ok fermo il respiro una bocca aperta trattieni peggio o meglio meglio ok fuori l'aria viene a pancia in su che ti faccio l'ultima tecnica ci siamo inspira fuori inspira fuori inspira fuori dentro ok seduta ti rigira la testa quindi ti avrei una limona dimmi quando la via gira tutto ok dimmi a questa l'ultima ok allora direi che ci siamo ti ho fatto un bel esettino oggi insomma sarei un po' infastidita ma vedrai che poi va meglio torni nuova non lo vuole grazie abili a rivolata ultimo respirone fuori ok girati verso la finestra guarda che ti sposto i capelli perfetto ok comunque dolori non ne hai facciamo solo un bel controllo fai sport palestra giro il collo a destra così gira a sinistra ok rigira a destra ti fa male a questo punto no questo punto no questo punto qui poco qui mettiti seduta il cervello il lettino seduta sì braccia lente spingi verso l'alto spingi verso il basso spingi verso il fuori spingi verso il dentro bravissima mani sulle spalle spingi in alto la coscia brava anche questa spingi fuori la gamba spingi fuori la gamba la forza è molto buona dimmi se mi senti uguale destra e sinistra o se sei a un lato che senti un po' di più uguali? destra senti un po' di più destra? allora vieni a pancia in su testa dimmi braccialo con i fianchi un po' così guarda le gambe ok dimmi se ti faccio male se comprimo qui no qui no qui no qui no si è sposto così no si è sposto di qui no ok 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 si più o meno ci ho fatto un mese con il gesso poi un mese ancora ferma non ti ha dato problemi comunque no no a volte lo sento però non tantissimo cambio temperatura hai sentito? esatto si hai fatto quella specie di scossettina hai fatto un po' di rinforzo? tra qualità la specie ti va e mosso il piede no? no anche se mi ha detto di farlo ok vabbè sei onesta va bene dimmi sei dolore dolore? senti tirare qua dietro? si ok giù stessa cosa piega 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 male senti tirare? ok ma la schiena non ce l'hai? no io spingo di qui tu resisti alla mia spinta pronta? vai ok giù inspira fuori quante volte dalle di tre? quattro? tre o quattro dipende in settimana ok prima di fare palestra hai fatto altro come sport? nuoto basket danza un po' di tutto eh buono ma la testa non ce l'hai mai? no ok qui è dolore? qui è dolore? no qui neanche? no ok allora vieni a pancia giù testa nel buco braccia dietro braccia dietro si va bene si va bene dimmi se non è questo è un po' di schiaccio non ti faccio mai se ti schiaccio? No, pochi. Qui? Qui? No. Ok, si è esposto in questa direzione? Si è esposto di qua? No. Ok. Quando fai stacchi o comunque fai l'arte inferiore, fai gambe, non hai male alla schiena? Un po'. Dove? Qui? Sì. Qua? No? Sì, è morbida. Quindi più la parte bassa? Sì, ma anche sopra. Ok. Morbida, morbida. Brava. Quando rompi qualcosa, soprattutto nel piede, poi il corpo per difesa ti carica il peso da parte opposta, quindi comunque il bacino e l'ombare vanno a compensare. Adesso la liberiamo, vedrai che poi non avrai più bruni. Allora, pancia in su. Sì. Ok. Qui? No. Qui? No. Qui? Quindi questo sì? Sì. Ok. Se comprimo qua, questo scende, aumenta o rimane uguale? No, sento di meno. Ok. Ok. Se comprimo qui, scende, aumenta o rimane uguale? No, così rimane uguale. Ok. Se comprimo qui, scende, aumenta o rimane uguale? No, rimane uguale. Quindi con questo è meglio? Sì. Ok. Allora, gira sul fianco verso di me. Sì. Ok. Allora, gira sul fianco verso sul fianco. Ti guarda. Da. Ma non mi devi dire assolutamente sul fianco. Così, perfetto. Giù. Vieni leggermente qui vicino col sedere. Stop. Come quando sporchi le dita. Ok. Questo non è proprio in mente, non è andata. Così, così. Braccione. Ok. Monde, monde, giro la testa. Bravo. Gomito, gomito. Lascia cadere la gamba. Giù. Sì, bravissima. Sei pronta? Vado, eh? Inspira. Fuori l'aria. Bravissima. Poi, fianco, vai di qua. Vieni, più vicina. Ok. Sempre giù sdragata. Braccio qui. Questa stavolta la drizzi e la porti fuori. Bravissima. Così. Adesso ti sentirei cadere ma non cagli, eh? Ok. Il collo lo mettiamo per così. Giù, 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 giù. Pronta? Dentro bene? Fuori l'aria? Eccola. Perfetto. Ok. Ti prendo le belle dritte. Quei punti che ti dicevo sono molto sovraccarghi, quindi non liberando tutto, la colonna cominciamo a versi come deve, i muscoli lavoreranno in maniera più efficiente. Quindi poi quando fai gli stacchi soprattutto, vieni leggermente più in qua. Braccio a me. Braccio a me. Spalla a spalla. Stessa cosa, eh? Se senti il rumore non sono intatti. Dentro bene l'aria. Fuori bene. Ok. Torna al centro. Vai un po' qui in alto. Le metti quelle sulle prime morbide nelle scarpe? Quelle che d'altro scioglio non le metti niente. Le lasci nella scarpa. Non sono plantali, sono proprio effetto ammortizzante. Le lasci nella scarpa e ti aiuta un attimino a ammortizzare. Ok. 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 Sei pronta? Vado? Wow. E uno. E due. Wow. Vabbè sei molto brava. Non mi fa altra resistenza. E' la parte che mi spaventava di più. Sì? Lei è andata, basta. È tutto indicevole. E allora lo ripetiamo tra un mesettino e vediamo un attimo come stai. Comunque formicoli e i piedi non ne hai più. Soprattutto quello che non ne abbiamo avuto. Solo una parte che ho formicoli ultimamente è questa. Ok. In realtà ridurando la lombare fa questa traiettoria, quindi si passa ad anche questo. Da quanto ce l'hai? Da un po'. Ce l'avevo già nello scorso e mi è tornata quest'anno. Ok. Con la rottura dei piedi. Male qui? No. Ok. No, era la lombare. Quindi vuoi dire che già prima della rottura qualcosa nel lombare c'è? Eh sì. Ma siamo fatti le autostrade nervose. Partono dalla colonna e poi vanno e percorrono il corpo. Se c'è qualche blocco ti dà un sintomo di questo tipo, che è lungo, un dolore molto lungo. No, perché l'altro l'anno scorso non eravamo di più in palestra è più pesante. Ok. Seduta. Gambe di là. Allora. Mano sui fianchi. Così. Pollice dietro. Bravissimo. Un po' più in alto. Tutti due? Sì. Allora, partiamo dalla destra. Quando te lo dico io mi dai una gomitata verso l'indietro. Deve essere un colpo secco molto forte. Ok. Come se dai una gomitata. Ok. Pronta? Vai. Ok. Ok. Pronta? Vai. Bravissima. Bravissima. Fa strano, eh? Sì. Non sei abituata. Ok. Adesso dimmi se hai male se comprimo questo muscolo? Un po'. Questo? No. Se faccio così? No. Se faccio così? No. Un po' poco. Ok. Questo è quello più fastidioso? Sì. Se ti faccio alzare il braccio mantenimelo così. Diminuisce aumento o rimane uguale? No, rimane uguale. Ok. Diminuisce aumento o rimane uguale? Diminuisce. Diminuisce aumento o rimane uguale? No, rimane feggio forse. Quindi meglio così? Sì. Perché proviamo a tenda così? A metà. Così meglio? Ok. Sì. Così sì. Ok. Stai per la molle? Bravissima. Giù. Un po' contratta, eh? Mh mh. Sì. Ruotami il collo a sinistra. Brava. Aspetta che spostiamo. Stai bene? Bravissima. No, così va bene. Torna al centro. Allora, ruota a sinistra. Ok. Torna al centro e ruota a destra. Ok. Riproviamo un attimo la forza. Sempre con le acciabelle dritte. Così. Guarda dritto anche con gli occhi. Brava. Spingi in su. Spingi in giù. Spingi in fuori. Spingi in dentro. Benissimo. Sì. Facci in a te la legge, giusto? No. Perfetto. Allora, questo fa rumore ma zero dolore, eh? Senti. Ok. Ok, allora fammi tre respironi, vai, uno, due e tre. Ok, ora mi piace, qua non c'è più la tensione, secondo me sono blocchi che avevi da un bel po', tolti questi vedrai che sarei molto meglio, oggi sarei un po' infassinita ma è normale. Stretching non lo fai? Poco. Molto poco? Prima o dopo? Entrami, sia prima che dopo. Ok, sono un po' coppa. Sistemiamo, sistemiamo. Va bene Martina, allora io ti ho tolto tutto, quello che ti può aiutare da proteggere un pochettino il piede è proprio da mettere questa sua retina morbida, sono fatte in gelatina, quindi ti danno proprio una specie di contatto, poco ma molto morbido, proprio di ammortizza, che fa bene al piede ma fa bene a quello che c'è sopra il piede, quindi tutto il corpo, perché ammortizzi la colonna. Soprattutto quando ti alleni, quindi se vuoi lo metti sia quando fai la vita quotidiana al lavoro, e quando ti alleni, se devi scegliere due, metti un argomento, perché fai sovraccarichi, quindi quello ti aiuta molto. A parte quello ho qualche blocco ma gestibilissimo, ci vediamo un altro mese, vediamo come stai. Va bene, grazie mille. Grazie a tutti, grazie Martina, ci vediamo al prossimo video. Ciao!